Salve a tutti ragazzi, sono CiamCiamPoKiFan Come sempre, dopo le aperture nella vita reale come al solito ci sono le aperture online Allora, ho comprato i bundle pack di Axio e Litwick che consistevano nel trovare in ogni bundle pack una carta promo in questo caso una di Axio e una di Litwick tre bustine, infatti sono sei quindi due per tre sei e poi una monetina in ogni bundle pack e io vabbè ho trovato ne ho tre perché una me l'hanno scambiata e due appunto perché sono due in compagnia mia c'è? le fanno il doppio ok bene final, vedi lo schermo? no ok, niente allora interrompo comunque apriamo la prima bustina di vittini vittimi no dai no 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 do no no do no do no no do no do no un altro coppetta ne ho quattro se non sbaglio comunque, abbiamo N electric fraxur e, appunto, Croatia Grigus che vorrei bruciare online ne ho quattro no o la testa per oggi io facciamo bruciarlo facciamo bruciarlo italiano scontro c'è lì che si può adoro stati tra l'inizio apriamo un altro da una volta Allora Sto per mandare a quel paese Il sito Pokemon Non può essere Allora Crustle Stamfisk Fossiltappo E un altro Inutilissimo Gofagrigus Ma no è impossibile Trovato due volte di seguito L'ho cinque volte Ma no basta Sono stanco dei Gofagrigus Oddio La persecuzione dei Gofagrigus Va bene Poi abbiamo Guarda che Ha tolato il campanello Per me è come Gofagrigus Oh no C'è Vanilline Siuaddle Scelme Deino Che carino Appena c'è l'altro Gofagrigus Giuro che spacco Ok Ok Una holo Allora abbiamo Fossiltappo Ogni e sciau Creiogra le Li vanni Olo Finalmente Una che mi mancava Stamfisk Scelme Vanillite Karablass Stamfisk 3 rimanenti Apriamole Uh bella 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 Uh abbiamo trovato Aspetta La nostra 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 Perché Comunque abbiamo trovato Due reni in un pacchetto Allora abbiamo Apple condensa Palpitoso Fossi il fiume che mi mancava Gigalit Raro E poi Shandelure Raro reverse Ma abbiamo Pansia La resta Solo si spogna E due Apple Ok Ultime due rimanenti Dai una ultra E no c'è un Volcarona Crasto Stamfisk Fossi il tappo Volcarona che c'è Lo triplone Anzi triplo Stamfisk reverse Freelish Gole Si guado Solsi Se taibu Vediamo in un altro modo Se non lo fai Come? Vai a guardare In Skype Uh No Faschino Cosa Aspetta E c'è sempre da farò Deoxis Vabbè io mi chiamavo Cofagricus No Vabbè ne trova Creos Comunque abbiamo Un volcone Se palpitoso Scriveremo su questo video Le incinereremo L'invasione De Cofagricus Oh Cofagricus Non voglio sentire il nome Oh Farsi il più Ma Poi abbiamo Ah Certo Che carino Doppio E poi Victini reverse Tata 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 Poi abbiamo L'arresta Ah Axi Bienfu L'arresta E poi E poi abbiamo finito No 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 Comunque Che apertura Di Certo Veramente schifoso Dai Abbiamo trovato Di buono Sono di venno C'è l'apertura Nella vita Di Vabbè dai Certo Però Ho trovato anche una giovancia Gigalit 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 Ecco morto qua Ecco l'oggi Gigalit Perfetto Ok Ah ecco così sono ordinate Abbiamo trovato livelli 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 Basta Poi abbiamo trovato Questo Victini Che già avevo Olo Quindi lo scambio Vi ho trovato Ah C'è l'oro Poi abbiamo trovato Volcarona Poi abbiamo trovato Qualsuno Qualsuno Ah Copagrigus Ah Abbiamo trovato Copagrigus Ah Poi abbiamo trovato Qualsuno Vi ho trovato C'è l'oro Abbiamo trovato anche Gigalit Ciao ma ti sto facendo Un affondo con Copagrigus Con nome Copagrigus Dai fallo No ne lo metto come Cosa Il canale Vabbè ragazzi Sei minuti Bene Quindi Con questa sfortuna Sfortunosa anche online Vi saluto Ciao a tutti Dai ciao Che fan è Copagrigus Ciao a tutti Copagrigus Copagrigus